Sono state presentate stamattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo le iniziative organizzate da Comune di Napoli, Asia e Danea in occasione della quinta edizione della settimana europea della riduzione dei rifiuti che si terrà da 16 al 24 novembre. La riduzione dei rifiuti è il tema principale su cui l'Europa e il nostro paese si deve spingere. A Napoli come ogni anno aderiamo con delle iniziative, quest'anno c'è una bella iniziativa insieme alla Coldiretti dove dimostriamo che in cambio di 5 litri di olio esausto si dà un olio extravergine di oliva della nostra regione, quindi valorizzando anche i nostri prodotti in un momento in cui spesso i nostri prodotti sono al centro di attenzione negative. Oltre a queste ci sono una serie di iniziative soprattutto nelle scuole, noi ci teniamo molto a questa sperimentazione che oramai è al secondo anno ed è un successo che riguarda le menze scolastiche con lo scodellamento, con prodotti a rifiuti zero e soprattutto con la possibilità dove non si fa lo scodellamento di avere vaschette biodegradabili e compostabili. È l'unico modello in Italia di mensa fatta con questa modalità. L'obiettivo è quello di informare e sensibilizzare i cittadini sull'impatto dei loro stili di vita e consumi sull'ambiente e sui cambiamenti climatici, coinvolgendo le istituzioni, il mondo produttivo ed i consumatori nelle strategie e nelle politiche di prevenzione dei rifiuti dell'Unione Europea e degli Stati membri. Il Comune di Napoli è stato finalista alle premiazioni nazionali del 2012 ed aderisce anche quest'anno alla campagna con diverse azioni di riduzione dei rifiuti e di sensibilizzazione della cittadinanza e del mondo della produzione. Per invitare i cittadini a conferire in modo corretto. Il problema vero è che in quei contenitori bisogna metterci l'umido. All'inizio probabilmente è un po' disinformata, un po' non abbiamo fatto in tempo a farlo, ma insomma io credo che nel racconto differenziato bisogna avere la pazienza di aspettare, di insistere e di convincere. Quando poi non è fatta l'informazione e c'è chi lo fa per ratto di inciviltà, in quel caso scattano le sanzioni. Grazie. Grazie.